Una valigia fatta di fretta, un'altra valigia da fare, ma questa volta il viaggio ha un sapore diverso, papà ha avuto un infarto, devo partire. Ci sono dei bei rondoni, ma non è quell'aria festosa che c'era a maggio, ma che stia scherzando? Ma chi l'ha vista più, maggio, messe della madonna, tutte feste, tutti i vestiti, tutti i parlanti. Speriamo che ci si possa abbracciare quando uno vuole, a un certo punto. Aspetta, aspetta. 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 Grazie.